Si è appena chiuso un fine settimana che ha visto Monza, la Brianza, la Lombardia, l'Italia protagonista di uno degli eventi clou non solo del circuito della Formula 1 ma direi dello sport e dell'entertainment internazionale. Il Gran Premio che quest'anno ha celebrato il centesimo anniversario della fondazione della messa in attività del nostro autodromo nazionale e che per quanto riguarda più direttamente confartigianato la nostra organizzazione invece ha visto noi raggiungere l'importante traguardo del quarantesimo anniversario di un premio intitolato confartigianato motori che ogni anno mette in stretta relazione il mondo della Formula 1, il mondo dell'automobilismo in generale con il mondo delle nostre micro e piccole aziende. partendo da una considerazione, ancora una volta da dati che ci raccontano come la filiera dell'auto nel nostro paese conti circa 160 mila aziende, abbia più di mezzo milione di lavoratori occupati nel settore tra la parte produttiva e la parte poi di assistenza, ricambi, manutenzione e che di questi oltre mezzo milione di lavoratori il 70% circa lavori all'interno di micro e piccole aziende. Ancora una volta cioè la piccola azienda, l'azienda artigianale è al centro di una delle filiere più importanti del nostro settore che ha registrato nello scorso anno un incremento significativo del proprio fatturato, del proprio ricavio e quindi anche di occupazione. Ancora una volta quest'anno ragionando attorno alla evoluzione della Formula 1 abbiamo ragionato anche della evoluzione del mestiere, dell'autoriparatore, del carrozziere, del produttore di componentistica che necessariamente si deve adeguare alla trasformazione in atto, deve innovare come e più che in altri settori e in altre discipline. A questo premio il Confartigiano Automotori noi quest'anno abbiamo dedicato un bellissimo libro che racconta questi 40 anni di premio con una dotazione fotografica molto interessante naturalmente che innanzitutto per gli appassionati della Formula 1 ma non solo, dove troverete i visi dei maggiori campioni che hanno contraddistinto questa disciplina nel corso degli ultimi decenni, tutti raccolti qui e tutti i nostri ospiti nel corso di queste manifestazioni. A chi tra i nostri soci e tra i nostri ascoltatori vorrà avere una copia gratuita di questa pubblicazione non resta quindi che scriverci all'indirizzo che troverete indicato sulla nostra newsletter e avrete quindi la possibilità di avere questo racconto di 40 anni di emozioni.